Ritorno alle mie settimanali riflessioni su noterelle che vorrei meno tristi e difficili, che non sanno parlare che di crisi, di soccupazione, difficoltà per le famiglie, del dramma delle guerre che sembra non vogliono abbandonare questo tristissimo pianeta. Difficile parlare d'altro quanto non solo la dignità dell'uomo si attenta, ma al suo stesso diritto di vivere. E mentre nel cosiddetto mondo ricco e sviluppato, si cercano le vie sempre più anguste per uscire da una crisi economica e sociale di proporzioni in mani, intorno ad esso si vanno profilando le nefaste conseguenze delle stragi e delle distruzioni, e fatalmente delle incessanti migrazioni di popoli disperati alla ricerca di un improbabile futuro verso approdi tranquilli e ospitali. Verso il Mediterraneo, verso l'Italia e l'Europa, chiamate a dare prova di solidarietà e di uno spirito comunitario evidentemente non ancora giunto a maturazione. Renzi e Conte, accomunati da identico destino. Salvare la patria nelle due differentissime facce, entrambe deficitarie e deludenti. La consegna è da far tremare le vere ai polsi, portare fuori dalla crisi il paese e la nazionale, praticamente di compiere il miracolo. Hanno le doti giuste per poterlo fare, si dice, carattere, idee, coraggio, decisione. Mancano soltanto delle risorse materiali, rispettivamente i denari e i buoni calciatori. Conte ai miracoli ci ha forse abituati e il corroborante successo sugli olandesi sembra voler confermare le doti taumaturgiche espresse nell'ultimo triennio vincente. Procede invece a fatica l'altro uomo della provvidenza, alle prese sicuramente col compito più arduo. Tra i fedelissimi disposti a credergli in tutto e i contestatori a prescindere, rimango nel limbo di chi vorrebbe credere con tutte le sue forze, ma che giorno dopo giorno, questione dopo questione, vede fatalmente dequalificare la fede nella semplice speranza. Presentato da un discorso di quattro minuti nel corso dei quali il Premier ha fatto registrare l'espload di riuscire a non dire nulla, il progetto scuola sembra contenere il tutto e qualcosa di più. Passaggio in ruolo di tutti i docenti delle GAE e delle graduatorie dei concorsi. Bando immediato di nuovi concorsi, meritocrazia, qualità, tecnologia, insegnanti mentor, lingue straniere, valutazione del servizio didattico, progressione di carriera, retribuzioni legate al merito. A latere di tutto questo, tanto per iniziare, blocco delle retribuzioni anche per il 2015, attivazione del predievo di solidarietà e trattenuta sullo stipendio di settembre delle quote dell'intero 2014. Alla base della riforma, infine, il problema ricorrente, l'estrema problematicità del reperimento delle risorse che pure debbono uscire da qualche parte, non certamente comunque dalle retribuzioni dei parlamentari o dagli sprechi clamorosi e ben noti che ancora sussistono nel nostro dissennato sistema politico-amministrativo. Felici intanto i precari storici, spaventati i supplenti, minacciosi i sindacati, gongolanti, infine, i gestori di scuole private che scoprono di godere delle preoccupate tutte le dei Ciellini e della loro mentore, la ministra dell'istruzione, esautorata dal Fiorentino Renzi, non certo per la fede interista, ma per l'incapacità di saper mascherare le cose come duopo nella politica evoluta. Impassibile in tanti, pirroniani saggi che non credono per nulla nei mille giorni. A maggio, dicono, si andrà a votare, Renzi ha srodato il via alla campagna elettorale. Slogan, annunci, promesse, propaganda e nulla più. Da parte mia rimango nella prudenziale pochè, sempre più autoimposta e difficile da sostenere. Non giudico ancora e resisto alla tentazione di dirla tutta. Tremo il pensiero dell'ennesimo fallimento che potrebbe risultare esiziale per il nostro Paese e ancora di più dinanzi ai segnali del ritorno di certi personaggi indiscussi artefici dello sfascio nazionale che riemergono dagli eremi dorati minacciando di mettersi insieme nella convinzione di poter fare delle individuali inconsistenze un'applausibile forza politica. Una delle più ricche e varie edizioni dell'estate galatea conferma la fedeltà della Giunta Nisi all'idea di puntare sulla promozione del territorio come strategia di sviluppo e di crescita economica e sociale. Scommettere sulla cultura, l'arte, la storia, le tradizioni, il paesaggio, i sapori, i prodotti locali, il turismo. Su eventi di grande richiamo. Soprattutto aprirsi alla socialità, coinvolgere nel progetto le associazioni, il mondo dell'artigianato e del commercio, i cittadini di talento e di buona volontà. Tutto questo si sta verificando nella nostra cittadina che sembra avanzare, sicura e coerente pur tra le evidenti difficoltà di tante famiglie e qualche comprensibile incertezza in direzione di quella città del galateo che ogni giorno di più appare scelta, plausibile e appropriata. Una città pulita, ordinata, solidare, come si legge nel programma elettorale, consapevole delle proprie ricchezze e peculiarità, capace di progettare il proprio futuro guardando soprattutto al suo interno, alle risorse intellettuali e morali della sua gente. In attesa di tempi migliori e di una più felice congiuntura economica nazionale, sembra difficile trovare più utili indirizzi e direzioni. Da mercoledì 10 settembre parte la tre giorni della festa dell'unità, promossa dalla locale sezione del PD. Il 15 un convegno di SEL sui temi dell'agricoltura e del lavoro. Appuntamenti importanti da non mancare che riaprono il dibattito politico nella speranza che si affrontino problemi concreti e reali, che si parli alla gente dei problemi della gente, che si alimenti un confronto civile e costruttivo tra tutte le forze presenti in città. Lo spessore degli ospiti e la cultura politica degli organizzatori lasciano sicuramente ben sperare. Procede, coerente e fermo, nel suo percorso, valori e rinnovamento. Un movimento politico e culturale, nuovo e diverso, diretto da un leader capace di coniugare idealità e concretezza, cultura e progetto, amore per la propria terra e passione politica. La politica come progetto per il Salento, dimenticato, sfruttato, minacciato, facendo leva sulle innegabili risorse che trovano la più adeguata sintesi nell'idea di bellezza. Nasce dunque il marchio Salento Ideale. Un'idea forte, dice Pankiewicz, leader del movimento, per promuovere nuovo branding per lo sviluppo del nostro stupendo territorio. Riteniamo la nostra un'idea strategica vincente, un progetto di crescita per il Salento che possiede un patrimonio storico, artistico, culturale, invidiabile, ineguagliabile, inestimabile. Puntare sulla cultura per uscire dal declino. Scommettere sulle nostre risorse e peculiarità. Puntare sull'economia della bellezza. L'idea prende piede e si diffonde. A Galatone, nei vari centri, nell'intero Salento. Al momento appare come l'unica strategia promettente. La politica ne sappia prendere atto.